Di giorno l'attesa, di notte la magia. Quella di un Natale diverso dal solito, ma che è finalmente ai nastri di partenza. Giovedì 3 dicembre andrà infatti in scena la grande inaugurazione del Natale più fanese. Uno spettacolo serale a 360 gradi che unirà musica e danza fino alla suggestiva accensione dell'albero di piazza 20 settembre, prevista per le 21 in punto. Data la situazione, non sarà possibile assistere di persona allo show inaugurale. Per gli spettatori di Rossini TV l'appuntamento è per venerdì sera. Si terrà giovedì sera a 3 dicembre alle ore 21 in diretta sulle tv locali, in diretta su tutti i canali social del Comune di Fano, Visit Fano e venerdì sera si potrà vedere anche su Rossini TV l'accensione del Natale fanese, l'accensione di tutti l'illuminazione che di per sé si porta un messaggio di solidarietà, di speranza per il futuro visto il difficile momento. Io devo ringraziare l'Orchestra Sinfonica Rossini, Aurora Ginnastica, il Teatro della Fortuna perché è veramente un momento in cui le eccellenze della città si riuniscono per dar proprio luce alla città. Non mancheranno gli auguri e i messaggi di speranza del sindaco Massimo Seri, ma la serata sarà anche l'occasione per dare spazio a tre eccellenze della città, a partire dalla location. Il Teatro della Fortuna, che ospiterà l'Orchestra Sinfonica Rossini e le atlete della Ginnastica Aurora, fresche vincitrici di un titolo nazionale coreografate da Paola Porfiri. Saranno loro a sfiorare il grande albero e a illuminare così tutto il centro storico. La Società Aurora di Ginnastica Ritmica ha accolto positivamente l'invito dell'amministrazione a essere parte di questo spettacolo di accensione delle luci natalizie. Lo ha accolto anche nello spirito di resilienza, di sacrificio, ma anche di determinazione che è caratteristico di questo Natale. Ricordiamo che sono ragazze che a distanza di un mese hanno vinto un titolo italiano, ragazze che oggi onorano tutta la città e quindi vogliono insieme alla città portare un augurio nelle vostre case. L'Orchestra Sinfonica Rossini, assieme alla Fondazione Teatro della Fortuna, ha deciso in questo dicembre di organizzare alcuni eventi. Il primo di questi supporta un momento importante per l'amministrazione e per tutta la città che è l'accensione dell'albero e in generale le luminarie. Abbiamo immaginato di dare nella sobrietà che il momento richiede valore a delle eccellenze fanesi. Alcune sono le nostre maestranze, i nostri artisti, i nostri professori d'orchestra, saranno in 15 per questo piccolo spettacolo e poi avremo 5 ginnaste della ritmica dell'Aurora Fano che recentemente appunto ha conquistato uno scudetto. Saranno tre brani, dico solo qualcosa un po' di più sul primo, poi gli altri lasciano un po' di suspense. Il primo sarà il primo movimento del concerto grosso palladio scritto da Carl Jenkins. È un brano molto ritmato e quindi ci sembrava perfetto per la ginnastica ritmica. Poi avremo un secondo e un terzo brano di cui il primo avrà un carattere disteso come vuole essere questo periodo natalizio e l'ultimo un po' più maestoso in onore appunto al momento dell'accensione dell'albero.